Ciao amici, se state organizzando il vostro prossimo viaggio e non l'avete ancora fatto, sapete che siete proprio nel posto giusto, perché abbiamo cercato di creare questa pagina appunto per facilitare le vostre ricerche e qui troverete tutte le date disponibili per i prossimi tre mesi, ovvero per tutto l'autunno, settembre, ottobre e novembre, per i pazienti che vogliono andare sia in Moldavia ma anche in Romania. Come funziona? È molto semplice, dovete scrollare in giù e per la prima cosa trovate i viaggi di gruppo per la Moldavia. Come detto prima abbiamo tutti gli aeroporti con il volo diretto, sia in questo caso per Chisina, il primo aeroporto è da Milano-Malpinza, Poi abbiamo la città di Bergamo, ovvero da Milano-Bergamo, poi abbiamo Roma-Fiumicino, tantissime partenze da Roma-Fiumicino, potete notare che abbiamo il 10 d'agosto, il 14, il 18, poi il 3 di settembre, il 4, il 10 di settembre, il 1 di ottobre e fino a novembre, quindi proprio per tutto l'autunno avete già le date disponibili. Se ora stai guardando questo video e non vuoi volare da solo, sappi che qualsiasi data tu scelli significa che ci sarà già una persona che in questa data avrà il volo per Chisina, quindi significa che parteciperai ad un mini viaggio di gruppo. Poi abbiamo Venezia, abbiamo Parma, abbiamo Verona, abbiamo Torino, Roma-Ciampino e sapete in quanto non abbiamo solo pazienti dall'Italia, ovviamente abbiamo messo anche delle città che sono fuori Italia, ad esempio abbiamo qui Londra, abbiamo Viena, abbiamo Francforte, abbiamo Bruxelles, Varsavia, Baselmull House e anche Parigi. Come ho detto anche prima, in questa pagina non abbiamo soltanto i voli per i pazienti che vogliono andare in Moldavia, abbiamo anche delle date per i pazienti che vogliono andare a Bucharest o Brashov, quindi sempre qui trovate sempre tutte le date per i prossimi tre mesi, anche per la Romania. So che mi sto ripetendo tanto, però voglio appunto che sapete questa cosa, che per noi non importa il paziente che va a Chisina, ovvero Moldavia oppure che va a Romania, l'importante è di cercare di facilitare le vostre ricerche e di darvi tutte le opportunità in quanto possibile per organizzarvi meglio. In questo caso abbiamo anche Bergamo, abbiamo Roma Fiumicino, abbiamo Roma Ciampino, Bologna, Genova, Palermo, Pisa, Napoli, Perugia, Bari, Torino, Venezia. Poi ovviamente come anche nel caso della Moldavia abbiamo anche qui Monaco, abbiamo Londra, abbiamo Vienna, Bruxelles, Stoccarda, Malaga, Amsterdam e Dublino. Sì, perché abbiamo anche dei pazienti che non vengono soltanto dall'Italia, ma anche fuori Italia, quindi ovviamente quelli che siete da queste città e avete l'intenzione di venire ad autunno in Moldavia, sapete già che in queste date ci sono dei pazienti che avranno il volo diretto per Chisina appunto in queste date. Una volta che avete scelto la data desiderata da voi è molto facile, praticamente dovete cliccare su apri chat viaggi di gruppo, questo significa che vi collegate in modo automatico con le mie colleghe del dipartimento back office, loro diciamo che vi daranno tutte le informazioni necessarie in quanto riguarda il vostro viaggio o l'organizzazione, magari non so, vi interessa quante persone ci saranno in quella data, oppure comunque tutte le informazioni necessarie li prendete da loro, quindi bisogna semplicemente cliccare su apri chat viaggi di gruppo, dire la data più o meno che avete scelto e da lì già loro vi aiutano con tutta l'organizzazione. Noi abbiamo creato questa pagina appunto per voi per cercare di aiutarvi, per farvi vedere ovviamente se ci sono pazienti che non vogliono volare da soli e vogliono volare diciamo in compagnia magari di altri pazienti che vengono sempre in quella data, perché no così il tempo passa più veloce e ci si conosce a vicenda. Io spero che questa pagina vi sia utile, questa è stata diciamo la nostra intenzione, quindi è molto importante che se avete intenzione appunto di venire in Moldavia o Romania cercate di prendere i biglietti il prima possibile, perché in questo periodo i prezzi sono abbastanza alti e magari prima prenoti meglio è perché dopo se non so ti svegli con due o tre giorni in avanti, due o tre giorni prima rischi di avere un biglietto ad un prezzo molto 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 alto, quindi se ora volete prenderlo per novembre ad esempio sicuramente meglio è piuttosto che ad ottobre prenderlo per novembre, quindi per ora quelli che vogliono prendere per sempre per agosto non so, sicuramente sarà caro, però io veramente vi invito di prendere i biglietti il prima possibile, cercare di organizzare il vostro viaggio il prima possibile così per assicurarvi un posto in clinica e di usufruire di biglietti a prezzi accessibili vi saluto e una buona giornata a tutti, ciao!